Non è ancora noto ciò che abbia dato origine, l'incendio divampato nel primissimo pomeriggio di oggi in via a fabbrica vecchia Marina di Ravenna. Per un paio d'ore i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme e a evitare che si diffondessero nelle zone adiacenti. A dare l'allarme sono stati alcuni pescatori che hanno notato le fiamme arrampicarsi improvvisamente su un albero. Poi in pochi minuti il fuoco si è allargato all'aria sottostante andando a bruciare una lingua di terra lunga circa 80 metri e larga una ventina. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autobotte e i mezzi di supporto a causa delle fiamme e del fumo ben visibili anche a distanza. Inizialmente si era temuto che l'aria interessata dall'incendio potesse raggiungere anche lo storico edificio della fabbrica vecchia o la sede degli ormeggiatori.